In questo video possiamo vedere la realizzazione di una cornice romana del Settecento, più propriamente conosciuta con il nome di Salvatore Rosa, oppure il cornice maratta. Come potete vedere si tratta di una cornice senza decorazioni, essa si contraddistingue infatti per le sue superfici lisce e per il tipico profilo a gole di varia dimensione. Grazie per la visione! Le gole si susseguono lungo il profilo della sezione in forma molto equilibrata. L'intagliatore, per mezzo di sgorbie che funzionano elettronicamente e per mezzo di sgorbie tradizionali, realizza le gole e le piccole scalanature di questo tipico modello di cornice. E' interessante vedere come alla fine della lavorazione, fatta con le sgorbie, si procede con della carta vetrata piuttosto grossa a lisciare le imperfezioni che restano, soprattutto cercando di eliminare gli spigoli che derivano dall'intaglio. con la carta vetrata piuttosto grossa a lisciare le gole. Grazie! Grazie a tutti